Ragazzuoli, ciao a tutti! Dopo esserci concentrati due giorni sul ritorno del campionato, domenica concentrandoci al massimo su quella che è stata la partita di Udine, con buon epilogo viene banalmente da dire, e nella giornata di ieri con delle considerazioni sul post partita e soprattutto il video degli anti juventini che se non avete visto io nel dubbio vi invito ad andarmelo a recuperare e giusto tornare a parlare di calciomercato anche perché sai come la partita contro il bologna e domenica alle 6 se nel mentre non parli di calciomercato che sta entrando anche finalmente per certi aspetti nelle ultime fasi fondamentalmente non si parla di nulla ma nel momento in cui intanto bisogna tirare avanti la baracca e soprattutto qualcosa sta continuando a muoversi all'interno del calciomercato della juventus beh perché non parlarne e mi sembra quasi anche superfluo dire che sì per quanto magari un qualcosina si stia muovendo pare si parla soprattutto di operazioni in uscita che magari l'insieme di più operazioni possano portare a qualche colpo in entrata e un altro discorso ma al momento all'interno di questo video si parlerà di quelle che potrebbero condizionale non banale essere le uscite da qui alla fine del calciomercato vista quella che comunque la situazione della rosa per il numero di partite che andrai a fare nell'arco di una stagione che evidentemente è ritenuta ancora particolarmente corposa per un singolo impegno più la coppa italia che inizierà nel 2024 e se ti andrà grassa ti occuperà solamente cinque partite e onestamente direi di fare un recap per ruoli fortunatamente per quanto riguarda la porta non si parla più di nulla dopo magari qualche interessamento del Bayern Monaco nei confronti di Wojciech Czesny tutto quanto è scemato con un nulla di fatto quindi molto banalmente andiamo avanti e passiamo subito ai difensori perché per quanto riguarda la difesa invece ci sono un paio di situazioni in uscita una quella molto banale è quella di Facundo Gonzales qualora lo si voglia considerare un giocatore della prima squadra della Juventus in prestito alla Sampdoria con quindi il giocatore che raggiungerà Andrea Pirlo e quell'altra invece a modo suo vedendo che è stato uno dei temi di questa sessione estiva di calciomercato e questo fa capire abbastanza il livello del calciomercato della Juventus estate 2023 è quello inerente a Leonardo Bonucci proprio perché si parla di un Union Berlino particolarmente fiducioso per ingaggiare il giocatore Bonucci avrebbe desiderato concludere la sua carriera in Serie A ma nel momento in cui magari tutti i club di Serie A non sono interessati mentre invece l'Union Berlino che tra le altre cose gioca anche la Champions League ed è una squadra interessantissima tedesca sì c'è l'ipotesi che effettivamente questo passaggio si possa concretizzare soprattutto se magari l'obiettivo del giocatore è quello di essere convocato per gli europei del 2024 e da quello che si dice pare che Bonucci si sia preso altri giorni prima di dare una risposta definitiva ma qualora dovesse saltare quest'operazione qui io sinceramente non so quali altre strade si possano aprire per Leonardo Bonucci ma qui innanzitutto vedremo in secondo luogo eventualmente saranno molto banalmente stracazzacci suoi quindi direi subito di passare avanti e parlare dei centrocampisti o per meglio dire degli esterni anche se effettivamente ce ne sarebbe da dire anche per quanto riguarda i centrocampisti ma con la giusta calma ci arriviamo nel senso non è che ci sia qualcuno a correrci particolarmente dietro proprio perché per quanto riguarda gli esterni ci sono delle valutazioni in corso soprattutto per quanto riguarda qualche giocatore che potrebbe finire in prestito o magari anche proprio ceduto proprio perché da quello che c'è stato detto da Gianluca Di Varsio poi ovviamente ognuno giustamente prende con le pinze o meno in base alla credibilità che dà al giornalista in questione e ci mancherebbe altro sui Ling Junior pare ci siano diversi club di serie A come la Salernitana l'Atalanta e il Bologna tutti tre i club potenzialmente interessati a prendere il giocatore in prestito anche se di questo trittico personalmente un pochino più di paura nei confronti dell'Atalanta ce l'avrei perché potrebbe essere no anche proprio economicamente un club disposto ad aggiungerci magari il diritto barra obbligo di riscatto a determinate condizioni e qui molto banalmente vedremo mentre invece per Sule occhio al Frosinone che qui viene da pensare che qualora no si dovesse parlare di club come il Frosinone sarebbe ovviamente sì un prestito secco tra le altre cose lo stesso Di Marzio aveva quasi dato per certo Sule alla Salernitana entro giovedì giovedì quattro giorni fa ovviamente cinque giorni fa pardon poi puntualmente nulla di fatto e vedremo anche se sempre nei confronti di Sule secondo quanto riportato da Nico Schira che quindi vedete come cambia anche abbastanza agilmente la fonte che va a dire determinate cose il Feyenoord ha mostrato interesse nei confronti del giocatore e lo vorrebbe ingaggiare in prestito con diritto di riscatto solo che l'intenzione della Juventus è quello di cedere il giocatore a titolo definitivo quindi vedete anche qui da un lato c'è chi parla di prestiti da un lato c'è chi parla di una Juventus che il prestito non lo vorrebbe perché vorrebbe cedere il giocatore a titolo definitivo e viene da sé che se magari la Juventus ipoteticamente ovvio valuta il giocatore una ventina di milioni nel momento in cui si parla di club come il Frosinone e la Salernitana viene da sé che non siano club particolarmente propensi ad investire queste cifre per uno come Sule per quanto magari possa essere anche interessante e futuribile e chi più ne ha più ne metta discorso un pochino diverso che si potrebbe fare per il Feyenoord ma anche fino a una certa perché per quanto ti possano magari indubbiamente anche offrire una cifra più alta rispetto ad altri club magari di bassa classifica di Serie A 20 milioni non è detto che abbiano particolare voglia di sborsarteli per il cartellino di Mattias Sule e vedremo comunque vedremo perché insomma la partita di ieri mi ha messo qualche paura sinceramente una delle quali è la partenza di Costice ma qualora si dovesse verificare il prestito di Lynn Junior ovviamente verrebbe a meno la seconda purtroppo è stato l'ingresso di McKennie all'inizio del secondo tempo come esterno adattato quindi sinceramente io non escludo totalmente una partenza di Sule per impiegare in quel ruolo evidentemente anche con compiti diversi McKennie quando bisogna far rifiatare UEA e sinceramente se devo buttare lì i miei due centesimi come cosa non è che mi faccia particolarmente impazzire è anche vero allo stesso tempo che Di Marzio ha continuato a parlare di interessamento della Juventus nei confronti di Olm quindi qualora dovesse verificarsi no quest'ipotetica perché è di questo che si parla di ipotetica partenza di Sule ci potrebbe essere no anche la possibilità di andare a prendere Olm e banalmente andare a prendere un giocatore che fa quel compito di ruolo naturale senza dover andare ad adattare per l'ennesima volta anche perché non sarebbe propriamente il caso viene da dire un giocatore come Weston McKennie anche perché altrimenti qualora ovviamente tutto quanto andasse in porte ed è una cosa non dico i limiti dell'impossibile perché magari in 4-4-8 avrei a sbloccare 4-5 situazioni che sembravano bloccate però di punti in bianco no eventualmente ritrovarsi senza healing a sinistra e Sule a destra starebbe a significare partire con un pacchetto d'esterni composto da UEA, Kostic e Cambiaso che per quanto magari possano andare indubbiamente bene in ottica titolarità in un qualche modo anche rotazioni e ci mancherebbe altro partire con tre sarebbe limitante e per certi versi sarebbe ancora più limitante se il quarto fosse Weston McKennie adattato viene abbastanza da sé questa cosa ma ovviamente sono riflessioni basate su notizie non so quanto buttate lì ma fondamentalmente e pur parler ci mancherebbe altro. Tra le altre cose Gianluigi Longari di Sport Italia ha parlato di un interessamento del Lecce per Miretti dopo che anche lui per un pochino di tempo lo voleva la Salernitana poi lo voleva al Bologna adesso dal nulla è uscito il Lecce e questo è proprio un discorso generale riferito al giocatore. Personalmente sarei d'accordo intanto perché a centrocampo a livello numerico hai la possibilità di puntare su diverse persone molto banalmente perché hai diversi giocatori tra Locatelli, Pogba, Rabiot, Fagioli, Nicolussi Caviglia, lo stesso McKennie e molto probabilmente un anno di prestito a Miretti non farebbe bene di più perché si vede che è un giocatore con delle qualità importanti ma molto importanti solo che gli manca sempre quel centesimino per fare l'euro e molto probabilmente in un contesto ideale dove avrebbe la possibilità di giocare con continuità titolare ovviamente dove avrebbe la possibilità di sbagliare di migliorare e di avere un approccio diverso rispetto a quello che è l'approccio in un club come la Juventus secondo me non gli farebbe bene di più che ovviamente non starebbe a significare bocciare il ragazzo anzi da un certo punto di vista potrebbe stare a significare che cazzo va in prestito che l'anno prossimo torni che sei pronto e potresti anche fottutamente fare il titolare all'interno di questa squadra quindi attenzione io personalmente non sono particolarmente contro ad un prestito di Miretti per me gli potrebbe veramente far tanto ma tanto ma tanto bene e vedremo banalmente quelle che saranno le scelte della Juventus perché sinceramente non ho dubbi sul fatto che un giocatore come Miretti se lo metti sul mercato a livello di prestiti nel giro di 4-4-8 anche proprio diverse squadre ti bussano alla porta per prendere il ragazzo per un anno magari anche proprio squadre di livello non dico alto ma medio molto probabilmente sì come proprio sulla falsariga del Bologna per fare un esempio è molto stare appunto in quelle che saranno le idee le scelte della società Juventus di Massimiliano Allegri e quanto realmente puntano a livello anche proprio di minutaggio sul ragazzo per la stagione 2023-2024 secondo me ma banalmente vedremo e voi magari qui sotto fatemi sapere con un commento la vostra e per finire dato che ormai per un motivo per un altro è abbastanza sulla bocca di tutti negli ultimi giorni stando a quelle che sono state le parole di Romeo Negresti c'è stata una richiesta di informazioni da parte del Fulham per Moise Ken Moise Ken che secondo cronache di spogliatoio era stato messo fuori rosa dalla Juventus una fake news durata in rete più o meno un'ora prima di essere smentiti tra le altre cose proprio pure da loro stessi però è da un pochettino che si continua a vociferare di quest'ipotesi e proprio come banalmente avevo detto in quel video sinceramente a me stupirebbe fino alla certa partendo banalmente dal presupposto che soprattutto in questa Juventus in questo determinato periodo storico di giocatori imprescindibili non ce ne sono anche perché quelli no col valore più alto quelli che dovrebbero sulla carta essere e speriamo lo possano essere il futuro della Juventus da qui a venire Chiesa e Vlaovic per quanto riguarda il primo avevi accettato un'offerta dalla Stonevilla salvo poi il rifiuto della destinazione da parte del giocatore per l'altro fino a di fatto due settimane fa cercavi in tutti i modi di spingerlo all'interno della trattativa che avrebbe portato Romelu Lukaku alla Juventus quindi figuriamoci quale tipo di problema ci possa essere se dovesse arrivare un'offerta ritenuta congrua per il cartellino di Moese Ken che è anche giusto ricordare e a bilancio più o meno per una diciotina di milioni quindi per ogni cifra superiore a questa qui sarebbe a significare molto banalmente plus valenza liberandoti di un ingaggio importante e di un ammortamento che non è che sia proprio bassissimo e quindi insomma a me non mi stupirebbe come cosa se in tutto questo poi si parla anche magari di squadre inglesi che hanno un budget abbastanza importante che quindi magari certi investimenti li possono fare con più facilità rispetto a tanti altri club beh insomma sicuramente una cosa da monitorare anche perché come qualcuno magari in maniera anche legittima ha detto sollevando questo dubbio ma voi pensate davvero che la Juventus farà la stagione 2023-2024 tradotto con solamente il campionato e sempre la Coppa Italia a partire dal 2024 che se ti andrà grassa ti occuperà cinque partite con Chiesa, Vlaovic, Ken, Milik, Ildiz, Caio per due posti e io sinceramente non lo so non so bene quelle che siano le idee le strategie e le volontà è indubbiamente però una riflessione che si può considerare legittima allo stesso tempo c'è anche da dire che delle vere prime punte dei numeri 9 2 su 3 escludendo proprio lo stesso Moise Ken si sa che non è che abbiano una situazione clinica tranquillissima non che sia preoccupante però tra la pubalgia di Vlaovic e Milik che lo sai che spesso e volentieri nell'arco di una stagione qualche stop per svariate ragioni li ha magari non sarebbe neanche proprio il massimo ritrovarsi in una situazione dove entrambi siano fermi ai box e tu con chi giocherai in attacco boh speriamo banalmente che qualcuno la vada a buttare dentro però indubbiamente è una situazione da monitorare ed è quella situazione dove non puoi dire tranquillamente sì vabbè Moise Ken sarà un giocatore della Juventus a mani basse ci metto la mano sul fuoco mi farebbe piacere non sarebbe male prima dell'infortunio l'abbiamo visto anche particolarmente in forma nelle partite precampionato però di fronte ad un'offerta magari anche discretamente alta non puoi mai dirlo tra le altre cose sempre Romeone per quanto riguarda un altro della lista che abbiamo detto poco fa il Frosinone pare essere intenzionato a prendere in prestito secco Caio Giorgi e anche qui sinceramente non avrei nulla da dire lui per riprendersi davvero bene da tutto ciò che ha avuto deve avere continuità continuità che la Juventus non avrebbe e che molto probabilmente invece al Frosinone sì e quindi sinceramente non è che sia particolarmente sfavorevole a contrario più che sfavorevole contrario a questa cosa anzi secondo me gli potrebbe far solo che del bene detto questo ragazzuoli nulla vedremo come si svilupperanno tutte le vicende nelle prossime ore nei prossimi giorni insomma con l'augurio anche che magari qualche movimento di questi possa portare a qualche innesto nuovo che non sia solo ed esclusivamente Timothy Weha arrivato praticamente prima dell'arrivo di Giuntoli di fatto a momenti cazzo tempo due giorni e detto questo ragazzuoli nulla io vi mando un grosso abbraccio e tanto per cambiare fino alla fine forza Juve a